Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Il grande problema di un artista che sfonda nel pop, come ha fatto Gali, che ha fatto delle hit veramente massicce, è che poi è difficile trovare il giusto compromesso tra quello che si è e quello che si deve fare. E soprattutto si perde proprio l'identità. Mi viene in mente Miss Killa che dopo il grande successo di Maracanã si ritrovò un po' spiazzato. E che cosa fece? Fece un disco puramente street, puramente quella roba da ex freestyler, se vogliamo, proprio hip hop. Un disco puramente hip hop, cosa che gli costò parecchio perché il pubblico mainstream lo un po' lasciò perdere. Perse un po' quel grande pubblico che aveva accumulato e il pubblico, diciamo, quello lì street, comunque non se l'aspettava e magari non arrivò proprio a tutti, questo è il concetto. Invece, tornando a Gali, io ho la sensazione che stia vivendo una cosa, diciamo, simile, però lui sta cercando adesso di spingere in una sonorità che secondo me non gli appartiene tanto. Nel senso che lui è stato un grande innovatore, lui e Sfera insieme hanno letteralmente aperto un mercato. E mentre Sfera continua per la sua strada, sperimentandosi ma semplicemente confrontandosi con l'innovazione, Gali ha avuto un percorso molto complesso a livello di identità e questo disco ne è l'ennesima dimostrazione. Un disco che si allontana dalle logiche pop di hit come Cara Italia, ma allo stesso tempo non ha un'identità chiara. A me mi ha lasciato un po' scontento, però, attenzione, secondo me i grandi ragazzi seguitori, grandi ascoltatori del genere, possono anche apprezzare. Io perché non sono questo grande fan della trap, del rap, diciamo, contemporanissimo. E quindi magari, anche, diciamo, non so, parliamo del featuring con Simbalaru, a me questa roba mi fa proprio cagare. E mi imbestialisco se viene usato il nome come quello di Machiavelli. Che cazzo c'entra Machiavelli? In questa canzone? Nulla. È solo buttato lì, è solo preso il nome giusto per. Questo è il concetto. Ma Machiavelli è un personaggio storico importantissimo. C'è gente come me che c'è molto legata e che, onestamente, non si ritrova soddisfatta nel vedere sta roba. Ma che cazzo? Cioè, vuoi parlare di Machiavelli? Usa almeno una metafora che lo riguarda. Vuoi, non lo so, vuoi usare quel nome? Cioè, fa qualcosa, nel senso, non è possibile che qua tutti quanti utilizzano nomi di grandi autori buttati lì, senza il minimo rispetto. Senza il minimo rispetto. Quella cosa, poi con Simbala Roo, che mamma mia, Simbala Roo, proprio. Cioè, non capisco come facciate ad esserne devoti, molti di voi. Posso capire, non dice, mi piace la musica, eccetera. Però, cioè, sto personaggio imbalia del suo pubblico, imbalia anche della sua situazione legale. Poveraccio, mi dispiace, ma, cioè, veramente. Cioè, esci dal tribunale, lui e il suo gruppo, a sputare addosso, a lanciare l'acqua addosso ai giornalisti. Cioè, nel senso, i delinquenti esistono da sempre. E, insomma, perlomeno quelli che non avevano le telecamere puntate hanno cercato di seguire una certa logica. Cioè, nel senso, i criminali più pesanti sono quelli che hanno, diciamo, una condotta impeccabile in carcere. Cioè, sulla carta, i criminali più pesanti sono quelli che a un certo punto li devi far uscire. Perché, effettivamente, a fatti concreti, sono dei detenuti modello. Cioè, questo è tutto. Non esiste più niente. Becchi sei anni di condanna e inizia a buttare l'acqua addosso ai giornalisti. E poi dici che il giudice dice, eh, questi sono tutto finto, nessun cambiamento, devono stare in galera. Ha voglia di scrivere free, free. Free che cosa? Se tu c'hai una possibilità di comunque farti un po' di comunità, cose, ma ti comporti così, allora vuol dire che agli occhi del giudice ti meriti la galera, ma non per il reato, perché sei un idiota. Quindi anche solo collaborare con Simbala Roo su un pezzo che si chiama Machiavelli, grossa, grossa caduta di stile, caro Gali. Ma un po' come tutto il disco. Io magari sto parlando un po' da boomer, tranquillamente mi si può dire che non capisco un cazzo di questo genere, di questa musica, però Gali mi sembra molto meno efficace. Mi sembra uno che rincorre. Perché mi sembra chiaro. Io parlo di Sfera e dico, vabbè, fatto un disco per me è top, eppure non è che dici fa parte della mia linea editoriale. Perché Sfera non sta a grattare, Sfera fa il suo. Gali sta palesemente grattando, questo è il concetto, cercando di ricitarsi. Poi la sua carriera, io gli auguro il meglio, per carità. Però gli auguro la felicità, ecco. Però questa traccia a Machiavelli proprio... Io... Grazie.